Lo Shogun di James Clavell è un romanzo epico nel senso più ampio del termine. Accorpa infatti al suo interno le geste eroiche trasformative del singolo, dando però risalto al popolo giapponese inteso come nazione e dunque a una pluralità rappresentata da tanti individui differenti, anche antagonisti. Una storia che inoltre rispetta e nobilita costumi e tradizioni del Giappone, tramandando non soltanto l'identità di una civiltà completamente differente da quella occidentale, ma anche la sua memoria sociale, storica e politica. Il romanzo è dunque alla base della serie su Disney+, e si tratta peraltro di un racconto basato su fatti storici realmente accaduti. Seguiteci quindi per sapere qual è la storia vera di Shogun. Quella del Daimyo, letteralmente grande nome, era considerata nel Giappone feudale la carica più importante e prestigiosa, conferendo quindi ai lord nominati grandi poteri, territori e ricchezze. E tra questi, nel cosiddetto periodo Sengoku, anche conosciuto come periodo degli stati belligeranti, tra il 1467 e il 1603 ruolo fondamentale lo avevano in particolare tre clan feudali comandati da cinque Daimyo. Quello Imagawa, quello Oda, quello Ishigawa, quello Hosho e infine quello Matsudaira. L'epoca Sengoku è dunque ricordata tra le più divisive dell'intera nazione a causa della costante belligeranza tra i tanti feudi esistenti. E mancava dunque di coesione e di unitarietà, e lo Shogunato, in pratica un'unificazione a cui aspira nel romanzo di Clavel e nella serie FX lo Yoshi Turanaga interpretato dai Royuki Sanada, è in effetti ispirato all'ascesa del potere del clan Matsudaira, rappresentato dalla figura di Takeichio Matsudaira. A causa di scontri e alleanze con gli Imagawa e gli Oda, infatti, il giovanissimo figlio del clan Matsudaira viene impregionato assieme ad alcuni seguaci nel castello di Kuwatari, segnando quindi sin dall'infanzia un'esistenza costellata da strategie militari e spirito indomabile. Così, in età adulta, dopo essere divenuto signore del suo clan, chiese e ottenne di cambiare il nome di famiglia in Tokugawa e di chiamarsi Ieyasu, affermando al contempo di discendere dalla stirpe Minamoto, e cioè dalla vecchia famiglia imperiale. Ieyasu fu inoltre protagonista di numerose astute mosse politiche e militari, come ad esempio la totale disfatta del clan Osho. Ed è in questo momento che inizia la storia di Toranaga, controparte romanzata di Ieyasu, quando viene nominato come esponente del Consiglio dei Cinque Reggenti alla morte di Toyotomi Hideyoshi fino alla maggiore età del figlio Hideyori. Nel 1600, il clan Tokugawa guidato da Ieyasu, la fazione orientale, e il clan Mitsunari guidato invece da Ishida, la fazione occidentale, si fronteggiano nella decisiva battaglia di Sekigahara, dove vennero schierati 165 mila uomini in totale. Alla fine prevalse la fazione orientale di Tokugawa, che dopo aver ucciso i principali leader della fazione occidentale e disgregato la maggior parte dei clan feudali nemici, divenne così il governatore del Giappone, ottenendo poi nel 1603 all'età di 60 anni il titolo di Seiza Shogun, ossia il grande generale dell'esercito di sua maestà, altrimenti più noto e abbreviato in Shogun. Iniziò così il terzo governo shogunato dopo quello Minamoto e Dashikaga, e dando contestualmente i natali al periodo Edo, che durò fino al 1867, traghettando quindi anche il Giappone attraverso gli inizi dell'età contemporanea. Il capitolo John Blackthorn si ispira invece al navigatore inglese William Adams. A ridosso della battaglia di Sekigahara, infatti, approdò sulle coste giapponesi. Soprannominato Anjin dalla popolazione del luogo, Ieyasu intravide in Adams e nella sua nave, la Ledfe, un grande alleato sia in termini militari che in futuri commerci con l'estero, decidendo infine di incontrarlo. E il romanzo di Clavel e la serie adattano quindi i testi redatti dallo stesso navigatore dopo gli incontri con Tokugawa, ma anche il rapporto che si instaura tra i due. Blackthorn, poi più di Toranaga e la lettura pressoché identica dell'uomo Adams, in particolare per quanto riguarda lo spirito di adattamento alla cultura giapponese e il modo in cui riuscì a divenire nel tempo, nel giro di pochi mesi, un fidato consigliere del futuro primo shogun Tokugawa, e aiutandolo in concreto anche ad ottenere tale titolo. E non solo fu tra i primissimi esploratori britannici a raggiungere le coste nipponiche, ma anche l'uomo bianco protestante che contribuì a cambiare per sempre il volto del Giappone e dei commerci tra Oriente e Occidente. E voi cosa ne pensate? State amando la serie Shogun? Fatecelo sapere nei commenti!